Eccolo qua Ola, adesso mi sento Perché io ho bisogno di sentire la mia voce Quando parlo Bellissima ballata Questa qui proposta Dalla Night di Poliradio Buonasera, come state? È passata una settimana Sono stato al festival di Sanremo Settimana scorsa E ve ne ho portato qui un pezzetto Voglio di nuovo Salutare come ho fatto prima Durante la chiusura Della trasmissione di Ema La mia nipotina Ciao Giulia, buonanotte E non so se andrà a letto Perché è tutta esaltata Mi scrive mio fratello E quindi vediamo Comunque, un pezzettino di Sanremo Ve lo porto E vi farò ascoltare Le belle canzoni Che sono state proposte quest'anno al festival Mi sono piaciute particolarmente tutte Tutte, dalla prima all'ultima Sono abbastanza particolari Poi ne sviscereremo in una in particolare Che mi ha colpito profondamente Per adesso Andrea Nardinocchi Con Storia Impossibile È troppo tempo che volevo dire Che non sto bene E mi sembra di capire Sia lo stesso per te